Stava scappando l'accoltellatore della turista israeliana Roma Termini, notato da due carabinieri fuori servizio, è stato bloccato sul treno alla stazione centrale di Milano. Andiamo in diretta da Sara Grattoggi per gli ultimi aggiornamenti. Sara. Sì, è stato portato qui alla caserma Montebello Alexander Czomiak, il 24enne polacco, accusato di aver accoltellato il 31 dicembre alla stazione Termini la turista israeliana Abigail Dresner, a riconoscerlo alla stazione centrale di Milano. Mentre era a bordo di un treno in partenza per Brescia, è stata una coppia di carabinieri, marito e moglie fuori servizio, che lo hanno bloccato dopo aver chiamato i rinforzi. Così è scattato il fermo congiunto con la polizia ferroviaria e ora gli agenti che hanno indagato in questi giorni sul caso stanno salendo qui a Milano, mentre domani il pubblico ministero chiederà la convalida del fermo. Massima soddisfazione intanto è stata espressa dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi.